Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione, questo nuovo video Oggi abbiamo tra noi questa statua in resina di Batman prodotta da McFarlane Toys Questo è il Batman di Michael Keaton dal film The Flash Ragazzi questa statua in resina si preannuncia veramente una bella bombetta, è uscita un po' in sordina Ma io voglio farvela vedere un po' più nel dettaglio perché appunto secondo me merita tanto Vedremo anche il mantello posabile, ha delle chicche niente male tra cui anche la dimensione Comunque ragazzi questa qui è la confezione, io sono lontanissimo perché è veramente grande Vi faccio vedere quanto misura la confezione per renderci conto, ecco qua E quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a vederla fuori dalla confezione E ragazzi eccolo qui sulla basetta rotante, devo ammettere che ho avuto un bel po' di difficoltà per inquadrarlo correttamente tutto da lontano Perché ragazzi è veramente grande, è veramente grande, ecco ve lo faccio vedere a confronto di una McFarlane Toys classica Ragazzi stiamo parlando di una statua in resina in edizione limitata, adesso vedremo la numerazione Ragazzi, alta praticamente 30 cm E una statua in resina di questo tipo, di questa grandezza, di solito ha un prezzo quasi doppio rispetto a quello che ci propone McFarlane Toys Quindi ha tentato con questa uscita di fare una statua in resina, quindi un materiale molto pregiato, il materiale migliore, più pregiato per i collezionabili Ma di farla pagare comunque poco tra virgolette rispetto a quanto costano normalmente Perché comunque ha un costo, ma ragazzi è un pezzo veramente enorme, veramente enorme Comunque l'abbiamo vista da lontano, mentre girellava sulla basetta Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio appunto tutti i vari dettagli, scusatemi, il gioco di parole E cominciamo dalla basetta, che è una base enorme, pesantissima, zeppa piena di resina Qui c'è appunto il foro per inserire il peg di metallo che ha nel piede Batman come sempre, con le statue in resina E questa è la parte sottostante, e ci dice che è la numero 41 di 500, quindi edizione limitata a 500 copie Nel mondo ragazzi, una figata questa qui Tanto il logo è molto figo, se non avesse questo buchetto qui si potrebbe appendere magari anche sul muro Se amate particolarmente fresh Ora andiamo a vedere il nostro Batman Eccolo qui ragazzi Allora Il viso Devo dire che la somiglianza con Michael Keaton non è impressionante Assolutamente Però gli occhi sono stampati veramente bene Facciamo un altro zoomino per vedere più il dettaglio Eccoli qua Figo l'effetto lucido che hanno dato agli occhi Vediamo comunque la carnagione è fatta bene Però non vedo propriamente la somiglianza incredibile con Michael Keaton Per il resto, a parte questa parte del viso Ragazzi, la statua è veramente clamorosa a mio parere Ci sono un sacco di dettagli fighi Dipinti anche molto bene La tuta opaca Cintura lucida invece per staccare Faccio vedere un po' Zoomata al mille per mille come piace a noi Stivale con lo sporco Fatto veramente bene Qui c'è il peg appunto in metallo Anche la statua ha un bel peso Pesa praticamente quanto la basetta Qui vediamo anche gli altri dettagli dell'altro stivale Ragazzi, è veramente figa Qui vediamo il braccio con il lancio a rampino È un bel pezzo Un gran bel pezzo ragazzi E vediamo anche il mantello che è in tessuto Dezoomiamo se no troppo da vicino In tessuto però con dei fili metallici all'interno Quindi molto posabile Adesso chiaramente vedremo la posabilità del mantello Che secondo me è la parte che dà quel tocco in più a questa statua E ragazzi di che cosa stiamo parlando? La sto inquadrando a una distanza incredibile perché è veramente enorme L'apertura del mantello ragazzi Saranno 50 cm se non ancora qualcosa in più È sposta così ragazzi per chi ha lo spazio Questo è un pezzo veramente clamoroso a mio parere È un pezzo veramente clamoroso E chiaramente il mantello si può posare in vari modi Anche per esempio più chiuso così Cioè ragazzi c'è veramente l'imbarazzo della scelta Un po' più mosso È super posabile perché non ha solo i fili metallici qui Ma ce li ha anche qui dietro all'interno Si può accartocciare Si può fare di tutto ragazzi È veramente figo Veramente una gran statua secondo me Con questa chicca del mantello Gli dà proprio quel tocco in più La ciliegina sulla torta Peccato solo ripeto Il viso Il viso mi sarei aspettato Un minimo Un po' di somiglianza in più Però per il resto ragazzi Non potete dirmi che un pezzo del genere Messo nella vetrina o su un mobile Tipo da qualche parte Non fa la sua figura Impossibile Impossibile negare questo ragazzi Veramente Bomba Bombetta secondo me Non perfetto Ripeto Però McFarland Toys Ci ha dato un prodotto Veramente niente male Per chi magari vuole Una resina in collezione E non vuole spendere 5-600 euro Ma la metà Ragazzi Questo è Batman da The Flash Michael Keaton Complimenti a McFarland Toys Per queste proposte Che comunque mirano sempre A far risparmiare Qualcosa ai collezionisti Ci stanno provando Stanno facendo dei tentativi Qualcuno va male Qualcuno va bene Però almeno Tentano di fare qualcosa di nuovo Ragazzi Questa era la statua In resina edizione limitata Fatemi sapere appunto Cosa ne pensate Di questa statua Di quello che fa McFarland Toys Con un commento qui sotto E la che video è sempre rettissimo Così come anche la condivisione La trovate disponibile Sul mio sito Ara Shop Naturalmente Nuova e sigillata Link qui sotto in descrizione Vi ringrazio sempre per la visione Ciao da Ara Qualcuno da sempre